L'Istituto di Istruzione Superiore Chiori Vittorini di Grugliasco, dove sono stati svolti importanti lavori di edilizia scolastica da parte della città metropolitana. Siamo con il Preside, con il Professor Cavallo. Preside, oggi è il giorno della soddisfazione, possiamo dire. Certamente, lavori fatti bene, lavori fatti in grande stile, senza risparmio anche di buoni materiali, buone strumentazioni. È un bel giorno, abbiamo recuperato alcuni locali in disuso, altri li abbiamo ristrutturati. La scuola è molto grande, ne ha tanto bisogno, quindi aule nuove, anche locali per mettere più studenti, locali di ritrovo, locali per conferenze, per studio. Quindi siamo molto soddisfatti di questo ulteriore passo avanti.